Camina, vieni Stefano, tu conosci bene questo gioco anche a casa, no? Cosa fai Stefano? Io faccio l'impiegato e il cantante. L'impiegato e il cantante ha cantato con noi molto bene, tra l'altro proprio ieri. Allora Stefano, tu rappresenti Pugnago del Garda, devi entrare, hai una grande responsabilità perché Pugnago dopo quattro settimane potrebbe lasciare questo studio, i nostri occhiali, ok adesso non li toccare più, gli do il pulsante, eccolo. Quando tu premerai questo bottone, se volete con il pollice lo devi lasciare subito, altrimenti cadranno subito 20 litri d'acqua. Una volta premuto, conta mentalmente sino a 30, se sarai preciso tratterai la coppa agli avversari, in caso contrario 20 litri d'acqua sulla tua testa è la vittoria all'emico tempo. Attenzione, come sempre chiediamo il massimo silenzio, quando vuoi, vuoi premere il pulsante e cominciare a contare. Grazie. 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 Grazie a tutti.